Costa dei Trabocchi, siamo partiti ieri sera alla ricerca di un posto dove poter passare il nostro capodanno e la bellezza del camper, appunto questa, quella di poter partire e decidere dopo quando dormire, quando arrivare e dove arrivare. Il mio veicolo è un Imer, un BMCT 600, quindi a disposizione di 7,19 metri con letti gemelli, letto basculante. E stanotte abbiamo appunto deciso di fermarci qui, in un parcheggio in Abruzzo gratuito, tra l'altro di fianco, vicinissimo, c'è una ristorazione, c'è un posto dove poter appunto andare a bere il caffè, mangiare, veramente noi siamo arrivati ieri sera in tarda serata, abbiamo deciso di appunto mangiare lì e il ristoratore ci spiegava che in estate questo posto è veramente preso molto di mira. Io sono arrivato qui tramite Park4Night, quindi se avete l'applicazione di Park4Night vi consiglio di guardarlo, se invece non ce l'avete vi consiglio comunque di scaricarla. Guardate dove abbiamo dormito, abbiamo dormito a 3-4 metri dal mare, veramente nel vero senso della parola, cullati dal rumore del mare stesso, stamattina la prima cosa che ho fatto è alzare il finestrino, aprire le finestrino e alzare l'oscurante per vedere questo spettacolo che c'è. Un'altra cosa bella è che quando tu ti fermi, come vedete adesso poi noi abbiamo le biciclette, è possibile perché sei già all'interno del ciclabile, quindi è possibile fare il giro all'interno appunto di questa ciclabile che poi porta, mi dicevano altri trabocchi, io da qui ne vedo uno proprio in fondo, adesso non so se voi riuscite a vederlo, ma ce n'è un altro a poche centinaia di metri che sicuramente ora andiamo a vedere. Non molto distante da dove si dorme, torno a ripetere, il posto è gratuito, ma non è perché è gratis, è perché è bello, veramente bello, è possibile comunque andare a fare anche la colazione e tutto il resto, quindi è anche molto molto comodo. Io approfitto anche per salutarvi, per fare una camminata insieme a voi, quest'anno direzione sarà Puglia, quindi passeremo per Altamura, Alberobello, vogliamo veramente vedere un po' tutto Polignano a mare, veramente un po' tutta la Puglia, vogliamo divertirci, vogliamo star bene e partire così sicuramente è facile. La domanda che vi faccio è scrivetelo nei commenti voi col camper, se avete il camper, voi se avete il camper, non avete mai trovato un posto così totalmente in libera, ma specialmente con tutta questa bellezza intorno. Questo è un video corto, giusto per portarvi a farvi vedere le novità del canale del Centro Caravans Barassi, quindi come sempre vi consigliamo o non vi consigliamo determinati posti, in questo caso è super super consigliato, è super consigliato non solo in bassa stagione come ora, anche se poi noi siamo totalmente soli all'interno dell'area di sosta, dove però vi do un consiglio e anche su Park4night è scritto chiaramente dagli utenti, dopo anche farò la mia recensione, attenzione all'ingresso perché è posizionato dove vi sto indicando io, e io l'ho fatto in due manovre e mezzo con un camper da 7,19 metri, quindi sicuramente non è consigliato a tutte quelle persone che hanno un camper superiore ai 7 metri, o è consigliato ma con una massima attenzione perché la seconda curva è veramente più stretta. Se invece avete un van, non è una questione di larghezza, è proprio una questione di lunghezza perché a un certo punto bisogna proprio la torsione del veicolo, c'è un palo e quindi si fa più fatica, se invece avete un van, passo medio, passo lungo, non c'è comunque nessun tipo di problema perché appunto la lunghezza riesce a girare tranquillamente. Ed eccoci qui al nostro trabocco, questo è il primo che oggi vediamo, pranziamo sicuramente qui anche perché io da questa vista non mi voglio assolutamente muovere, eccoli lì altri due, poi pomeriggio invece andiamo in direzione Puglia, dove danno tra l'altro una settimana bellissima di sole, e quindi sono molto felice. Noi dovevamo fare un'altra cosa, ma come vi dicevo la bellezza del camper è appunto quella di poter cambiare. Siete già stati qui, io è la primissima volta, sono stato in Abruzzo, terra che amo, tra l'altro Tortoreto, quindi non molto distante in realtà da dove siamo ora, però la costa non l'avevo mai vista ed è spettacolare. Vi ringrazio per aver visto il video, guardate ancora dove ci troviamo, se siete interessati a questo giro, se siete interessati a questo posto che vi sto facendo vedere, ovviamente scrivetemi nei commenti, scrivetemi in privato, perché rispondo sempre super volentieri a tutto, e chiudo con questa vista dove giro, vi ringrazio, vi ricordo che se volete questi contenuti, di iscrivervi al canale di YouTube, oppure TikTok, oppure Facebook, oppure Instagram, insomma siamo presenti ovunque, e secondo me lo siamo nella maniera più bella, quella che voi venite in vacanza con noi, e quindi anche questa recensione, questo format di consigliarvi tutti i vari posti, secondo me è top camper, area di sosta, mare, trabocchi e giretto, e siamo un po' in position, ciao ragazzi, ci vediamo domani, per la prossima avventura, ciao a tutti!